Devo dirvi che ho ricevuto delle e-mail, alcune molto forti, ma voglio ringraziare tutti perché vedete quando un'altra persona ha il coraggio di contrabbatterti, di dirti che non la pensa come te e questo è bello, è meno male, perché guardate noi spesso pretendiamo o crediamo di essere giusti quando non abbiamo nessuno che ci dice che la pensa diversamente da come la penso io, da come la pensiamo noi, non abbiamo nessuno che ci dice momento io obietto su questo, invece è bello vedete, ed è segno il dibattito, il confronto sano, onesto, onesto, di cui oggi mangono te testimonianze, lasciatemelo dire, molte volte da chi proprio ci aspettiamo esempi di dialogo, di dibattito onesto, di confronto disindiressato, obiettivo, molte volte invece di donarci questo ci donano spettacoli indecendi, ci donano come dire dei ring, spettacoli come ring dove invece di parlare ci si copre l'uno sull'altro e ci si fa violenza anche se non fisica, qualche volta anche fisica, ahimè, e che esempio di cultura, di apertura noi diamo soprattutto ai ragazzi e mi riferisco qui agli uomini di cultura, mi riferisco ai nostri rappresentanti e io resto male quando per esempio vedo che in Parlamento o al Senato ci si ringhia l'uno contro l'altro, dove ci si offende l'uno contro l'altro, ma quella non è cultura, quella è arroganza, è arroganza, altro è avere la passione politica nel difendere le proprie idee, perché chi ha una passione politica ed è mosso da motivazioni autentiche e non di parte, da motivazioni che vedono non tanto la propria ideologia, ma semmai partendo dalla propria idea o ideologia poi sa guardare al bene comune, bene, non offende mai, è sempre disposto ad ascoltarsi. E allora, dicevo, sono contento per queste email e voglio rispondere a Ettore, un avvocato che pensate, mi ha scritto da Porto Rico e questo avvocato dice che praticamente dire a un giovane oggi di restare nel proprio paese laddove non è possibile progredire è un segno che non va. Ma perché non va? Ettore, lo dico a te ma lo dico a tanti, perché quando un giovane lascia la propria comunità, quando un giovane è costretto a lasciare le proprie radici, è costretto, è una sconfitta per tutti, è una sconfitta per tutti, perché vuol dire che lì da dove viene non si è capaci di dare loro speranza. E quando una politica, quando l'economia, quando la finanza, quando la Chiesa non è capace di dare speranza, vuol dire che abbiamo fallito. Questo cosa c'entra con il nostro discorso sul discernimento? C'entra perché il discernimento è calato nella vita concreta delle persone, non è qualcosa che ci passa sopra la testa, ma è qualcosa che deve entrarci nella testa e nel cuore. Testa e cuore. A domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. A domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. A domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Grazie a tutti.